Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Allora, ho le manine un po' storte. Ta-ta! Siete pronte? Allora, per prima cosa mi prendo della pasta di zucchero color carne e sono qua per farvi vedere. Sta ballando l'inquadratura? Aspettate che la fermo. Ta-ta! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Finalmente i mold corpo. Me li avete chiesti in tantissimi e mi ci sono impegnata tanto perché volevo che fossero belli e effettivamente ce l'ho fatta. Adesso vi faccio vedere come si usano. E' semplicissimo, ovviamente ci vuole un pochino di... bisogna prenderci un pochino la mano, ok? E ovviamente, questo va da sé, le proporzioni sono precise per il mold viso, ok? Che già abbiamo. Quindi, cosa faccio quando... cosa vi consiglio di fare? La prima cosa dalla quale vi consiglio di partire è il busto e le mani e le braccia. per due motivi. Il primo, il busto deve sostenere tutto il peso, quindi ovviamente ha magari bisogno di più tempo per indurirsi, ok? Mentre le braccia sono le più sottili e quindi ovviamente anche loro necessitano di un pochino più di tempo per riuscire, diciamo, perché la pasta di zucchero si rapprenda, ok? Dovete utilizzare... metterò poi tutte le istruzioni anche nei... diciamo, nelle... nelle confezioni. Dovete utilizzare circa 50 grammi di pasta di zucchero, ok? Il mold è fatto per 50 grammi di pasta di zucchero. Come sempre, ci prendiamo un po' di maizena o di gomma gradante o di CMC, insomma, quello che avete a disposizione e lo andate a... è andato a spolverare il mold nelle parti, diciamo, quelle un pochino più piccole, quindi il collo, le spalle e se volete anche il seno. Poi, chiaramente, ragazzi, dipende da che tipo di pasta utilizzate, se è un pochino più bagnata, un pochino più secca, chiaramente farà la differenza. Mi raccomando, assicuratevi che non ci siano pieghe nella pasta di zucchero che state inserendo, altrimenti poi vi rimangono sul... sul corpo, ok? Quindi ci cominciamo a dare una leggerissima forma, non facciamo altro che aprire il mold, inseriamo in questo modo e poi andiamo a spingere all'interno, ok? Così. Ovviamente dovete contare che il mold da questa parte è piatto, quindi dovete cercare di dargliela poi voi un pochino una forma, ok? Quindi stesso, eccola qua, così, e arriviamo, diciamo così, al sedere. Secondo me qua c'è un po' troppa pasta, ecco qua, quindi facciamo così. Il mold corpo è un pochino più lungo del normale, ve l'ho fatta apposta, ok? In modo che abbiate un po' di gioco, ok? A questo punto potete, scusate, tac, vi fate il sedere e ora comincia la parte, diciamo così, la parte divertente. In che senso? Nel senso che dobbiamo andare a lisciare bene i bordi del mold, ok? Perché ovviamente qua, altrimenti vi rimane un, come si dice, il segno. Quindi allargando il mold e molto, vedete, con il dito andiamo a lisciare da una parte e anche dall'altra. Molto delicatamente andate a ammorbidire, ecco qua, i fianchi della vostra forma, ok? Ovviamente io oggi con le unghie così lunghe non le ho tagliate, è un pochino più complicato. Se volete, vi potete, ecco qua, fare anche la linea della spina dorsale e riprendiamo ancora un po' il sederino. Ok, quindi, fatto questo qua, ora io non so se riuscite a vedere di profilo. Io qui ho lasciato un pochino più pasta che fuoriesca dal moldo nel collo. L'ho fatta rientrare all'altezza proprio della nuca e poi ho lasciato un pochino più di spessore sulla schiena, ok? Anche perché altrimenti vi vengono i corpi completamente piatti, va bene? A quel punto, una volta fatto questo, non fate altro che girare e il moldo è fatto. Ecco, vi ricordate il discorso che vi ho detto della pasta, delle linee? Qua non sono stata abbastanza attenta. Però, come vi dicevo, l'ho fatto un pochino più lungo questo moldo, quindi possiamo andare tranquillamente a tagliare questa parte. Andiamo a pesare 10 grammi per le braccia, quindi 20 in totale, 10 più 10, quindi per un totale di 20 grammi. Ripetiamo, 50 grammi per fare il busto e 10 grammi ogni braccio, quindi 10 più 10. Aspettate che era il busto e lo spostiamo un attimo. Ok. Sempre CMC e insistiamo, mi raccomando, con la CMC o con la gomma gradante o con la maizena all'altezza delle mani, ok? Lo dico sempre, ragazzi, i mold sono, a parte casi eccezionali, proprio un po' dei punti di partenza. Vi servono più che altro per velocizzare, vi servono per chi magari non ha molta dimestichezza con le proporzioni e quant'altro, ok? Ma diciamo che dal mold poi voi potete continuare a lavorarci. Quindi cosa facciamo? Apriamo il mold e andiamo ad inserire la pasta di zucchero, ok? In questo preciso modo. In questo preciso modo, sembro mia figlia. Mia figlia guarda quel cartone animato che guardavo anch'io quando ero bambina, che si chiama Il corpo umano, però siccome ha visto il film Home, non so se l'avete visto il cartone animato, quello sull'extraterrestre, lei non lo chiama il corpo umano, lo chiama l'umano corpo, cioè praticamente parla al contrario. Non riesco proprio ad arrivarci in fondo, ho provato a spiegarglielo, ma non ce la facciamo. Allora, andiamo a lisciarci bene anche le braccia, però per le braccia, visto che sono molto strette, ci andiamo ad aiutare, vedete, con il solito pennellino da pittura a punta piatta, ok? In questo modo. Ricordatevi sempre il polso, il gomito, cioè tutti quei punti in cui comunque abbiamo dei restringimenti, ok? E teniamone da conto, quindi creiamoli. Per ora, questo lo lasciamo qua, va bene? Tatac! E prendiamo di nuovo gli altri 10 grammi di pasta di zucchero, non mi ricordo se avevo messo la CMC su questa mano e nel caso ce la rimettiamo, ok? Stesso discorso, allarghiamo e andiamo ad infilare. Se volete, vi potete sporcare un po' le dita con la CMC per evitare che quando schiacciate la pasta di zucchero vi rimanga attaccata alle mani invece che entrare precisamente nel mold, ok? Così. stesso discorso di prima, quindi esattamente come prima, prendiamo il pennellino e andiamo ad ammorbidire così. Ora, per evitare che si deformi troppo facendolo fuoriuscire, lo lasciamo un attimino fermo, così. Ah! Ho calpestato il corpo. Lo lasciamo fermo e passiamo invece alle gambe. Per le gambe vi servono 25 grammi ciascuna, effetto? Quindi più o meno 25 grammi, ok? Lo mettiamo, contiamo più o meno la lunghezza, ok? Vedete? Più o meno ci siamo. La allunghiamo ancora un secondo perché c'è il piede, perfetto. Quindi come prima, lo apriamo più che si può. Infiliamo dentro il piede, ok? E come abbiamo fatto per le braccia, andiamo ad infilare la gamba, ok? Adesso non vi preoccupate, vi sembra tutto deformato, vi sembra tutto molto brutto, ma dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo fatto prima. Se volete, se la pasta tende a seccarsi, potete, aspettate che devo aprirlo, ecco qua, prendervi un pochino di crisco o di burro di cacao, insomma quello che avete e aiutarvi un po' con, appunto, con il, col crisco, comunque con una massa grassa per riandare ad ammorbidire la pasta di zucchero, ok? Pennellino da pittura. Andiamo a lavorare sul polpaccio e sulla caviglia, ok? In questo modo. Vi consiglio vivamente di metterla in forma, ma poi lasciarla qualche minuto a riposare, in modo che riprenda la forma, perché non è come i mold barocchi o come i visi che sono qua, cioè se si deforma proprio si vede, ok? Stiamo parlando di un corpo umano, quindi ovviamente il rischio poi è che si noti, ok? Quindi la lasciate, se avete tempo, la lasciate riposare 5-10 minuti, insomma il tempo che potete, e poi la andate a sformare. Stesso discorso, qua lasciate un po' più di pasta e qua lasciate un po' più di pasta, perché dovete pensare alla coscia e al polpaccio, ok? Che dall'altra parte ovviamente verrà modellato in automatico, ma da questa parte è piatto, quindi dovete pensarci voi, ok? Ora noi non abbiamo tanto tempo, perché se no io non riesco a farvi l'altro, quindi lo sformo subito. Cominciate sempre dal piede, perché è la parte più sottile, c'è la caviglia e quindi è quello che rischia maggiormente di, come si dice, di deformarsi. L'avevamo messa la maizena? Dubbio? Non me lo ricordo, mi sembra di sì perché è uscito molto bene. Eccolo qua, ok? Abbiamo la gamba, ovviamente da questa parte potrebbe essere un pochino ancora da rifinire, ma non è un problema, la rifiniamo, ok? A quel punto la lasciamo, come vi dicevo, un attimino che si riprenda un secondo, ok? Stesso discorso, oh bello signore, ma quale abbiamo fatto? Aspettate che mi dimentico, abbiamo fatto questa, ok? Quindi dobbiamo fare questa qua, stesso discorso, non cambia assolutamente nulla. Mettiamo, come vi dicevo, la maizena all'altezza del piede, il sito vi ricordo www.bimagenta.it, quindi abbiate solo un po' di pazienza perché lo abbiamo terminato stamattina, quindi il tempo di testarlo, fotografarlo e quant'altro, adesso lo caricheremo entro la giornata di sicuro. Stesso discorso che abbiamo fatto prima, infiliamo la pasta di zucchero. Perché vi do un peso preciso di pasta? Perché ovviamente è molto più facile lavorare con un quantitativo di pasta giusto, ok? Se voi lavoraste con troppa pasta, poi andarla a eliminare diventerebbe sicuramente più complicato. Come abbiamo fatto prima, ci apriamo il mold e andiamo a, ecco qua, vedete che io tengo sempre l'indice qua perché sennò facendo questo lavoro il rischio è che la pasta si allunghi e quindi si deformi la gamba e ovviamente questo non ci va bene, ok? Polpaccio, caviglia e piede, ok? In questo modo, ok? Così, e così. Ripeto, se volete, vi potete aiutare con un po' di crisco o di burro di cacao, ok? Controlliamo, ecco, vedete qua l'ho deformato un po' troppo, quindi lo apriamo. Non vi preoccupate se nel fare questo lavoro un po' la gamba si deforma, ok? Perché tanto quando poi richiudete lo stampo, la gamba riprende assolutamente la sua forma. E come abbiamo fatto prima, giriamo e... ah! Mi è scivolato, speriamo che non si sia danneggiata troppo. Ecco, vedete qua mi si è chiuso lo stampo e dai rimasto un pochino più danneggiato, ma non è un problema, noi facciamo così e la linea l'abbiamo fatta sparire, ok? Quindi rifiniamo il piedino e abbiamo una gambetta fatta e finita. Quindi cosa succede? Che noi abbiamo le due gambine, questa è venuta troppo, quindi la aia, mi sono anche tagliata lunga, la pareggiamo, ok? Quindi così, abbiamo il busto, tac, devo scendere un po', ok? E ora ci non rimane che sformare le braccia, ok? Quindi, come abbiamo fatto per le gambe, partiamo dalla parte più stretta, quindi dalla mano, è scesa? Direi di sì, ok, e la rifiniamo, aiuto, un secondo, ok? Adesso andatela a rigirare un po' così, ok? E quello che potete fare, come vi dicevo, è tagliarvi le dita, quindi, aiuto, il pollice, indice, medio, anulare e mignolo. A questo punto, la mano la potete poi rifinire voi come meglio, come meglio, ho toccato l'inquadratura, come meglio credete, ok? Questo è il braccio, eccolo qua, quindi ci mettiamo qua e andiamo a, dovevo prendermi il tappetino, a riprendere un pochino il, diciamo, il gomito, ok? Scusate che se no faccio un guaio, stesso discorso da questa parte, le mani sono proprio un po' accennate, va bene? Perché non sarebbe stato possibile farvi le dita precisamente, quindi sulle mani un pochino va da sé, ragazze, che ci dovete lavorare. Però io vi ho già segnato le dita, così non dovete fare altro che tagliarlo e poi, come abbiamo visto insieme l'altro giorno, ok? Andate. Anzi, potrebbe anche essere, l'ho fatto apposta, che le dita vi vengano un pochino troppo lunghe, ma l'ho fatto perché, appunto, diventava difficile con una cosa come le mani riuscire a trovare la giusta dimensione, va bene? E poi ve le andate a sistemare voi come meglio credete. A questo punto andiamo a... devo metterla, eccoci. Scusate, perché ora comincia ad essere un po' nello stretto, quindi anche lei, così, gamba 1, gamba 2. Va bene? Ovviamente qua l'abbiamo fatta un po' di corsa, va bene? Così. Quello che volevo farvi vedere stamattina, sfruttando un po' di pasta, quella avanzata, dal tutorial di Ursula, ve le ho fatte le gambe e le ho già inserite, le avevo inserite rispettivamente nello stuzzicadenti e in un wires, ok? Per poterle inserire, non possiamo farlo adesso, dovete aspettare che la gamba sia un pochino più asciutta, perché sennò, ovviamente, vi si deformerà completamente, ok? Però, se avete l'accortezza, ecco qua, di aspettare un attimo, potete poi, diciamo, infiocinarle, diciamo così, come meglio credete, ok? Quindi, il mold, corpo, braccia e gambe, ok? Poi vi farò magari un tutorial un pochino più con calma, ok? Per farvi vedere bene, però diciamo che è molto semplice. Come in tutte le cose, io lo ripeto, un pochino bisogna prenderci la mano, su questo non ci piove. Vi ricordo che le gambe potete poi inserirle negli stuzzicadenti o nei fil di ferro, in questo caso io ho usato un wires per per fiori e che le proporzioni si adattano perfettamente ai nostri mold viso. Come dico sempre, anzi, prima faccio il cambio inquadratura, da voi, quando faccio questo cambio rimango sempre un po' così. Dicevo, come vi ho sempre detto, i mold devono essere, ecco mi raddrizzo, ero un po' storta, devono essere anche un po' un punto di partenza, va bene? Quindi giocateci un po', cioè perdetele un po' di tempo per utilizzarli al meglio. Mi passa un attimino la riga quella lì, mi chiedete l'altezza totale del busto, avete ragione? Io direi che siamo comunque sempre intorno, ora ve lo dico, direi che siamo intorno sempre ai soliti 23-24 cm, esatto, compresa la testa raggiungiamo i 24 cm. Ok? Ragazze, grazie di tutto, complimenti ancora a Tiziana per aver vinto il suo compito a casa e ci vediamo domani alle 2, sempre qua. Buona giornata e buon proseguimento. Ciao!